Più di sei mesi e tengo sotto osservazione questo depuratore, attenzionando a tutti, potrei dire pure il nome e cognome, al Sinto del Comune di Petralia Soprana, alla Giunta Comunale, a tutti gli assessori, ai consiglieri. Onestamente ho fatto decine e decine di istanze protocollate che riguardano anche questo depuratore e certo qualche strumentale e caognosa denuncia che mi hanno fatto non mi hanno mai risposto alle note che sono state protocollate e regolarmente al Comune. Sicuramente no, almeno io da settembre-ottobre, oggi sono venuto diverse volte, i motori sempre fermi, ironicamente li chiamo silenziosi, ma non c'è stata mai traccia di movimento dei motori, anche perché quel tubo che abbiamo visto corrugato bypass il refri fognare all'incresso del depuratore, vengono sversati in questo pozzetto, ci sono una serie di pozzetti solo per far collegare il tubo al torrente a San Michele e il torrente a San Michele, precisiamo, è un affluente del fiume Salso che funziona da depuratore. Addirittura diversi cittadini di queste frazioni, Pianello, Cipampi, Niterunità, Fasanò, nel passato, sapendo che sono stata una persona sensibile per quanto riguarda l'inquiramento ambientale, mi hanno riferito e accennato di questo depuratore non funzionante. Addirittura alcuni cittadini appalesano una truffa a opera del comune in quanto vengono chieste le tasse della depurazione del refri senza che minimamente sussisto una briciola di costatare la depurazione. L'unica depurazione avviene tramite il fiume Salso, il nostro patrimonio funge da depuratore. Grazie a tutti!